I don't want to miss anything, non voglio perdere nulla, è un brano musicale registrato da Liero Smith e divenuto colonna sonora del film Armageddon del 1998. Il singolo debuttò alla prima posizione della Billboard Hot 100, divenendo il primo fra quelli del gruppo a riuscirgli dopo 28 anni di carriera. L'ibrano rimase al primo posto in classifica per ben 4 settimane, introducendo Liero Smith a una nuova generazione di fan. Esso recelette inoltre una candidatura come miglior canzone agli Oscar del 1999, piazzandosi secondo della gradatoria generale. Anni 60 Collection, i midici anni 60, anni di boom economico, anni in cui l'Italia, dopo decenni difficili, usciva faticosamente da una lunga crisi, guardando il futuro con molto ottimismo. Celebriamo quel periodo assai rimpianto attraverso una fantasia di celibri motivi arrivati in Italia dagli Stati Uniti, proprio nei midici anni 60. Ricordiamo infatti Downtown, Il ballo di Simone, Venus e Puppet on a String. I brani non hanno davvero bisogno di ulteriori presentazioni, spazio alla bacchetta del nostro maestro Stefano Done e dal corpo bandistico cassinese Francesco Solia in I Don't Want to Miss Henity e Anni 60 Collection. Buon ascolto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.